pace a tutti buona giornata dio vi benedica oggi è domenica domenica 18 aprile leggiamo nel libro della genesi capitolo 31 i versi da 26 a 55 il passo che vi propongo di leggere ci presenta diversi spunti di riflessione ma io vorrei soffermarmi con l'aiuto del signore sull'abbano e sulla sua tradizione religiosa e sulla sua superstizione religiosa infatti vediamo l'abbano che insegue giacobbe e lo insegue sicuramente perché se n'è andato di nascosto ingannandolo senza permettergli neanche di dare un ultimo saluto alle sue figlie ma lo insegue anche perché gli sono venuti a mancare gli idoli domestici era inevitabile che un uomo come questo si affidasse a degli idoli fatti con gli elementi poveri di questo mondo era inevitabile perché era un uomo corrotto un uomo che amava l'inganno la menzogna che viveva con attitudini poco encomiabili ecco diciamo così era inevitabile perché in lui non c'era l'opera che deriva dalla presenza di dio e che genera un timore quindi una tendenza ad ubbidire a dio stesso e ancora oggi nel mondo ci sono tante persone che si dichiarano credenti ma lo sono a modo loro almeno così dicono e spesso anche questi si affidano a sotterfuggi a inganni a menzogne a ruberie e nello stesso tempo abbinano a queste attitudini una religione superstiziosa fondata su rappresentazioni della divinità che dovrebbero avere il potere di custodire preservare la loro vita ricordiamoci che secondo la bibbia che è la verità dio è spirito e veri adoratori lo adorano in spirito e verità ricordiamoci che secondo la bibbia non è possibile farsi immagine o scultura o scultura alcuna di dio ricordiamoci che secondo la parola di dio prostarsi dinanzi a queste cose è abbovinevole agli occhi del signore perché chi adora dio lo deve adorare in spirito e verità ricordiamoci che gli idoli che possono essere fatti anche se artisticamente belli non hanno alcun potere perché come dice la parola hanno occhi e non vedono hanno orecchie non sentono hanno una bocca e non parlano hanno delle braccia ma non le possono stendere in favore di nessuno hanno delle gambe ma non si possono muovere dio è spirito ripetiamola ancora una volta egli è il vero creatore del cielo e della terra e non può essere raffigurato con nessuna cosa lo vedremo un giorno come egli è se saremo fedeli a lui se avremo accettato cristo nella nostra vita e non lo vedremo con gli occhi di carne che oggi abbiamo ma lo contempleremo col corpo glorificato che egli ci darà e quando lo vedremo realizzeremo la sua bellezza le sue perfezioni ma oggi vogliamo continuare a camminare per fede e non per visione così come la scrittura d'altronde insegna labano è in uno stato confusionale afferma di aver avuto una rivelazione da parte di dio ma deve parlare di dio come l'iddio di giacobbe come l'iddio di abramo l'iddio di sacco non può dire che dio il creatore del cielo e della terra è il suo dio ancora oggi ci sono persone a cui dio si rivela persone a cui dio parla persone che sono attratte da dio ma che purtroppo rimangono legate alle loro tradizioni religiose e la loro è una condizione pericolosa perché come dice l'apostolo paolo ai romani pur avendo conosciuto dio non l'hanno glorificato come dio ci aiuta il signore a prendere una posizione ben definita nella nostra vita a non accontentarci di sentire dio che bussa alla porta del nostro cuore ma ci aiuta il signore ad aprire quella porta affinché gli possa entrare possa regnare nella nostra vita labbano fu disposta a stipulare un patto con giacobbe e chiamò l'iddio di giacobbe a testimone già in quel tempo si manifesta una forma di tolleranza verso la fede altrui e quella che labbano dimostra verso la fede di giacobbe una tolleranza che c'è ancora oggi e che è sfociata in una forma di relativismo religioso che cerca di prendere piede nel mondo intero ascoltare e comprendere le ragioni e le credenze altrui è qualcosa di buono di positivo ma tutto questo non può mai spingere l'uomo alla ricerca della verità perché questa verità si trova solo in cristo gesù e quindi a prescindere dal tentativo di ricondurre tutto sotto un'unica religione mondiale noi vogliamo continuare a predicare come l'unicità di cristo come via per poter raggiungere la salvezza l'unicità di cristo come via che ci permette di avere accesso al trono della grazia del padre e ancora questa mattina nel nome di gesù ci vogliamo accostare a dio e vogliamo proporci di camminare per la via stretta e angusta che cristo ha tracciato mettiamo da parte ogni altra cosa guardiamo alla scrittura guardiamo a cristo camminiamo nella via della consacrazione della santificazione e nessuno ci potrà derubare della salvezza e della vita eterna la pace del signore la sua grazia la sua guida il suo aiuto sia ancora con tutti quanti noi pace e benedizione in questo giorno dio sia con tutti noi grazie a tutti grazie a tutti